Numero 1 Dracodia in chain ma tutti mi chiamano semplicemente Dracodia oppure la gotica e 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 cosa è successo? Allora allora faccio io faccio io e sono pronto per queste evenienze se fosse una drag magrissima non avrei neanche la forza di salire sono un po' cicciottella allora emozionata vero? sentite io parlo con la Kelly la Ciana Alexino sei pronto? io mi prendo la responsabilità di ricominciare il pezzo perché sei stato di me volevo dire una cosa ai curati nelle nelle votazioni del show va e e bisogna ripetere questa cosa qua va e votata la scienza musicale per cui la ricercatezza la struttura del brano e oltre a tutte le caratteristiche che poi vedremo io direi di farlo orientare ma se si può andare con l'auto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.